In piazza, in tutta Italia, i lavoratori che hanno a che fare con gli stabilimenti balneari, non solo i titolari, ma anche chi lavora nel comparto indirettamente. Non c'è più tempo, siamo qui per difendere il lavoro delle nostre famiglie e il lavoro dei nostri dipendenti. Il tutto, secondo gli organizzatori, contro la legge vergogna che mette a gare le concessioni di Amaniani. A Catanzaro, davanti alla cittadella, i manifestanti hanno promosso un sit-in, nel corso del quale hanno però inteso ringraziare la Regione Calabria per l'impegno che sta mostrando su questa vicenda. È una semplice manifestazione pacifica per ringraziare i nostri politici calabresi che sono dalla nostra parte, che hanno capito la nostra causa, il nostro problema e ci stanno ascoltando e ci stanno dando una mano. Noi siamo qui per ringraziarli e per insistere che abbiamo bisogno d'aiuto e di veramente valutare bene le leggi e di fare giustizia, tra l'altro, sui veri emendamenti, su cosa è giusto fare e cosa no. Alla manifestazione calabrese anche il presidente nazionale di Asso Ormeggi, Angelo Sicleri. Su questa questione dell'applicazione o meno della direttiva europea denominata Bolkstein. Una direttiva che se applicata, soprattutto in territori come i nostri, come quello calabrese, certamente creerà non pochi problemi alle imprese che esistono già sul territorio e che negli anni hanno creato una vera eccellenza. La delegazione ha ricevuto la visita dell'assessore regionale al turismo Fausto Orso Marso. Per il loro futuro resta un'incertezza che dipende dalla norma che il governo nazionale deve fare. Attendiamo di vederla, saremo pronti a emendarla insieme in modo maturo perché ci sono anche nell'idea di riqualificare servizi, di poter rivedere anche i canoni concessori, tutto quello che gli imprenditori e anche quelli calabresi sono disposti a fare. Noi crediamo che non vada svenduta questa accoglienza alle multinazionali che possono liberamente fare gli investimenti anche in questa regione, ma quella tipicità d'accoglienza è la ricchezza anche di questo territorio.